Ha chiesto di parlare il senatore Romeo, ne ha facoltà. Sono qua, Presidente. Sì, grazie, grazie Presidente. Egregi membri del Governo, colleghi. Quindi, anticipiamo subito, essendoci due votazioni in programma, che sul ricorso all'autorizzazione, al ricorso all'indibitamento per il 2020, la Lega voterà favorevolmente. Sono risorse che andranno ai nostri cittadini, quindi con senso di responsabilità, come abbiamo già fatto l'11 marzo. Ci orientiamo su questa strada, che è quella strada anche di quella collaborazione di cui tanto si sente parlare e discutere. Quindi, all'atto concreto, mi sembra che la Lega ci sia. Certo, si sarebbe potuto fare sicuramente qualcosa di più. Avevamo detto che a marzo non sarebbero stati sufficienti i 25 miliardi. Vi diciamo in questa occasione che non saranno sufficienti i 55 miliardi di ricorso all'indibitamento e quindi di scostamento dall'obiettivo di medio termine. Però, forse, anche in questa occasione, un po' di coraggio in più avrebbe potuto far guadagnare tempo ai tanti cittadini che stanno ancora adesso aspettando soldi, risorse e che hanno bisogno di questo per continuare a sopravvivere. Sul fronte, invece, del documento di economia e finanza, capisco che sia una fase particolarmente delicata di emergenza, che non sia semplice. Sorvolando sui numeri, perché guardate, per la breve esperienza parlamentare che ho avuto, indubbiamente le previsioni del DEF non sono mai state poi rispettate a consuntivo. Figuriamoci se in una fase emergenziale come questa qualcuno possa essere in grado, con certezza, di dire quanto aumenterà il PIL, quanto diminuirà, quanto riusciremo a riprenderci. Quindi, nessuno sa bene quando questa fase finirà, quindi diventa difficile soffermarsi sui numeri. Ma guardiamo i contenuti, cioè l'idea di ricostruzione economica che questo documento poteva assolutamente contenere e che purtroppo non contiene. È un documento un po' debole. Ci saremmo aspettati qualcosa di più. Manca il programma nazionale di riforma, per esempio, indispensabile per individuare quali sono gli strumenti più importanti. Presidente, chiedo scusa, però non riesco a intervenire per i colleghi. Grazie, se potete uscire dall'aula, se avete discussioni da fare. Per cortesia, un po' di silenzio perché mi pare una discussione importante. Grazie, Presidente. Niente, per dire che quindi, quando si sente dire da più parti che le crisi possono trasformarsi in un'opportunità, molti fanno a gara per citare questa frase, bene, noi abbiamo un'occasione storica per davvero cominciare a correggere i difetti del nostro sistema Italia. Difetti che sono tanti e che si sono ravvisati anche quando la burocrazia non è stata in grado di concretizzare le stesse misure che il governo aveva messo in campo. Sono tanti i difetti, ma per fare questo, per avviare una vera ricostruzione, occorre una parolina magica che si chiama fiducia. Fiducia. E visto che c'è questo clima, io ho sentito molto bene le parole del senatore Rani, di collaborazione, di confronto. Mettiamo da parte momentaneamente le varie singole posizioni. Bene, vi cito Luciano Violante, politico, ex magistrato ed accademico italiano, che in una recente intervista ha scritto «Le leggi che riguardano le imprese considerano l'imprenditore un soggetto socialmente pericoloso, da sorvegliare passo dopo passo. Lo trovo un assurdo che paralizza lo sviluppo. Si fanno sondaggi per stabilire quanto gli italiani si fidano delle istituzioni. Suggerisco, dice Violante, un'indagine su quanto le istituzioni si fidano dei cittadini. La società italiana ha bisogno di fiducia, anche per ripartire. Allora, è una questione culturale. Siamo pronti ad affrontare questa sfida in questo Parlamento, sì o no? Questa è la risposta che dobbiamo dare al Paese. Perché, scusate, io non so poi se è stato voluto o meno, ma questa notizia del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, che annuncia che dal primo giugno arriveranno 8,5 milioni di cartelle per controllare i nostri cittadini, i nostri imprenditori, non è la strada giusta da perseguire se vogliamo cambiare la cultura di questo Paese. Anzi, semmai, bisognerebbe rilanciare fortemente il discorso di pace fiscale, che so che a molti non piace, ma attenzione, dare fiducia a fiducia a cittadini che sono andati in difficoltà e che con la pace fiscale potrebbero riavviare le loro imprese, è fondamentale. E lo Stato, visto che si parlerà poi di rientrare dall'indebitamento, ci guadagnerebbe. Avere fiducia nei cittadini e nelle imprese significa seguire il modello del ponte di Genova, dove lì la burocrazia ha dimostrato in realtà la sua vera efficienza. Perché? Perché c'è stata una deviazione dall'infinità di norme che hanno creato problemi e che creano problemi ai cittadini tutti i giorni. Serve dare anche un aiuto sugli investimenti ai comuni, come ha fatto Regione Lombardia, tre miliardi di investimenti subito ai nostri amministratori per avviare i progetti già pronti, perché così la macchina si rimette in botto. Ma tutto questo, perdonatemi, nel documento di economia e finanza si vede poco, qualche enunciazione di principio, anche sul tema della possibilità di una forte crisi della domanda. Molti imprenditori dicono che cosa ci serve che ci prestate i soldi se poi dopo non c'è il mercato. Come facciamo? Visto che poi di questi soldi molte imprese, quelli che riusciranno a prenderli, poi dovranno restituirli in sei anni, e questo significa avere poi comunque una crisi e una difficoltà nella ripresa per il futuro. Cosa bisogna fare? Usare il deficit non solo per gli aiuti, ma anche per ridurre la pressione fiscale. Se no, non c'è prospettiva per il futuro. Questa è un'occasione unica, storica. Molti imprenditori dicono che se non lo fate adesso, quando mai la politica italiana riuscirà a fare davvero una seria riforma fiscale che vada in questa direzione? Per noi della Lega significa flat tax, tassa piatta, unica, semplificazione, fiducia agli imprenditori. Serve un nuovo patto tra lo Stato e le imprese. Lo Stato abbassa le tasse, azzera la burocrazia e dall'altra parte l'imprenditore si prende l'impegno di pagarle tutte e di investire in crescita e in posti di lavoro. È il nuovo patto che dobbiamo essere in grado di costruire. Ma su questo la Lega c'è con le sue proposte, indipendentemente dalle iniziative politiche che la maggioranza fa e che è diritto, perdonatemi esponenti del PD, che lo faccia anche l'opposizione. Lasciateci manifestare, con tutta questa restrizione di libertà e di diritti, adesso ci manca solo che non possiamo stare sul nostro posto di lavoro. Ma è assurdo questo, è assurdo, senza dare fastidio a nessuno. Mi ovvio a chiudere perché anche sul fronte sanitario, scusatemi, che è un tema che viene toccato poco, nel documento di economia e finanza c'è qualcosa che ci preoccupa. Perché c'è un passaggio, nel cosiddetto scenario più sfavorevole, che dice che qualora i contagi dovessero riprendere, si dovrebbe necessariamente ritornare ad un'ulteriore chiusura, ad un nuovo lockdown. Ma come? Ma in questi due mesi è previsto qualcosa che potenzi il sistema sanitario nazionale, che ci renda pronti a non dover chiudere obbligatoriamente un'altra volta, in caso i contagi dovessero ripartire? Cioè, questo è il vero tema. E anche qui, nel DEF, c'è ben poco. C'è un potenziamento della medicina territoriale, della rete nazionale, di ospedali, che magari molti erano in fase di chiusura per la famosa questione dei punti nascita, che potrebbero essere utilizzati invece sia per ospedali per contrastare il coronavirus, che ospedali anche per il dopo. C'è questo piano? Non serve, e chiudo, nascondersi dietro alla regionalizzazione del sistema sanitario per deresponsabilizzarsi. Perché guardate che l'articolo 117,2, lettera Q, sulla parola profilassi internazionale, dà una competenza esclusiva allo Stato italiano. Quindi non si può evocare più poteri quando quelli che si hanno non sono in grado di essere manifestati. E sapete chi ve lo dice questo? Il vostro ministro Boccia, che in una risposta ad un'interrogazione sul tema della clausola di supremazia, fatta alla Camera dei Deputati, risponde ma lo dico perché penso che anche senza clausola di supremazia si possa esercitare fino in fondo il potere dello Stato. Esercitatelo, prendetevi le vostre responsabilità. Questo è quello che vi chiediamo. Questo è quello che vi chiediamo. Chiudo dicendo che se andiamo a vedere i dati dell'RSA, quelli fatti pubblicati nell'Istituto Superiore di Sanità il 14 di aprile con un report. La regione che ha avuto più decessi nell'RSA per il Covid è la regione migliore del 7% di casi e la Lombardia viene dietro. Comunque, per evitare, per evitare chiudiamo. Chiedo scusa, sto per chiudere, sto per chiudere, non ho interrotto il vostro discorso. Per cercare di fare in modo che queste proposte trovino concretezza e attuazione, cerchiamo tutti, lo dico, ma in primis il governo di darsi una mossa. Perché se non troveremo questa soluzione, non solo il governo, tutti quanti finiremo per essere travolti da una rivolta sociale. Noi comunque oggi voteremo no al documento di economia e finanza per i motivi che ho appena elencato. Grazie. Ha chiesto di parlare...